Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'omissione amplificatore dell'audio design Impact e GHS, dedicato interamente all'utilizzo con emulatori per chitarra elettrica. L'amplificatore ha una potenza di 500 Watt RMS, monta due coni da 8 pollici, un tweeter a cupola in seta da 25 mm. Nel frottale superiore abbiamo i controlli di tono, alti, medio, bassi, gain e volume e il tasto Ground Lift. Nella parte retro dell'amplificatore abbiamo la possibilità, oltre alla connessione della cassa, anche a un'ulteriore connessione per poter anche alimentare un nostro sistema di emulazioni che per esempio potrebbe essere il camper. Seguiranno altri video con esempi sonori dell'Impact GHS abbinata ad altri sistemi di emulazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima!